e chiama l'unione dei movimenti clandestini, gli uomini d'avvertiti. Il partigiano della continuità della lotta armata domanda all'organizzazione pubblica di un'unione dei movimenti pubblici come il tribunale di Bastia durante la visita di Rashida Dati, 23 attentati a Caudi sti boghi mesi. D'altrondre, tre lettere a nome di su eferenze di Usetontasei sono state mandate a Jacques Seguela, Marco Suizzer e Xavier Del Sol domandandoli di un micro-strussezo gas in Cala Longa, lettere che minacciano i tre uomini se non piantano i travagli, una coppia stata mandata a Omeri Bonifacio, Jean-Charles Succi. Allora, noi li clandestini, a volontà di sbagliare a Bolizzo, anche noi li dariamo a modi in un mondo clandestino, però non c'è che questione, presto venneranno forse e risposte.